Assieme ad Agostini, dopo molto tempo, anche Gerolin a mezzo servizio. Eccolo qui, un tiro di Miano, deviato dall'ex Corti, punizione di De Vecchi, para Brini. Questo è stato l'unico, praticamente l'unico tiro dell'Ascoli verso la porta dei Friulani. Attenzione a questa azione, c'è un fallo su Edigno, un fallo su Mauro, l'arbitro lascia correre per la regola del vantaggio, probabilmente para Corti. Ancora l'Udinese in avanti, siamo qui nel secondo tempo, vedete i tentativi dei bianconeri. Poi ecco un salvataggio sulla linea da parte dell'Ascoli, ancora l'Udinese in avanti, attaccato molto l'Udinese, ma non è riuscita mai a trovare lo spiraglio giusto. E qui è il palo di Edigno colpito in pieno, e ti restituisco la linea.